Oggi ragazzi farò un video veramente super diverso dal solito, infatti se mi segui solo per i contenuti di Warzone, se ti piacciono quelli però non ti interessa della mia vita, dei miei stati d'animo, dei problemi che sto avendo in questo periodo, delle cose che sono successe durante queste ultime settimane, skipa pure il video se non ti interessa, tanto i contenuti di God torneranno subito dopo aver pubblicato questo contenuto. È un video che per me è difficile fare perché non sono una persona che parla molto di problemi, di problematiche, infatti nelle live non ho mai detto nulla dei miei stati d'animo, cerco sempre di essere il giocatore di God, incazzato, sorridente, tutto quanto. Però purtroppo dietro appunto lo schermo ci sono altre cose e ovviamente lo sapete, oggi infatti non sarà Gian a parlare ma sarà semplicemente Gianluca e vi faccio vivere un pochino quello che vivo io dall'altra parte dello schermo. So che queste frasi fatte vi giuro non mi piacciono neanche a me però è quello che proprio mi sento in questo momento, ovvero parlarvi di quello che sto vivendo io in questo periodo. Perché ho deciso di fare questo video chiedendovi scusa, scusa per i miei comportamenti durante le ultime settimane perché sono stati brutti, nel senso non mi ci rivedo, io ho l'incubo di rivedere una mia live delle ultime settimane, neanche tanto tutta la live, ma alcuni momenti a me non piacciono perché non sono io, non sono mai stato questa persona. Mi sono sempre arrabbiato, questo lo dico, io sono una persona molto impulsiva però veramente nelle ultime settimane sto diventando insopportabile al punto che non riesco neanche a rivedermi io in live perché quasi mi vergogno di quello che faccio, di quelle bestie mie che tiro, di tutto questo mio comportamento che appunto deve finire e voglio fare questo video anche per darmi una motivazione in più per smetterla. Vi voglio parlare anche di un problema che mi ha fatto smettere in parte di fare tanti video, di stare tante ore davanti al pc, vi voglio parlare appunto anche di questa cosa che è un problema che tuttora forse ho però per fortuna semerebbe essere passato proprio per questo mio distacco da questi videogiochi, da Warzone, da tutto quanto ma comunque dai monitor, è più un problema di monitor secondo me, vi parlerò di queste cose. Quindi se siete interessati ragazzi da adesso in poi ci facciamo una bella chiacchierata e vi racconto un pochino delle mie emozioni, di tutto quanto. Prima cosa volevo dirvi perché ho fatto questo video, un paio di giorni fa in live mi ha followato un ragazzo dopo neanche un minuto mi ha scritto un messaggio, sono tre minuti che ti sto guardando e mi stanno cadendo le palle, c'è un continuo lamento e una cosa del genere. Io lì quando ho visto che sei un nuovo follower quindi non mi conosci, hai scritto una critica non conoscendomi, sia chiaro non cambio opinione su quello che ho detto ma l'ho detto nel modo sbagliato. Io ho preso in mezzo tutto e ho detto ragazzi a me non interessa niente di quello che pensate voi, questo è il mio contenuto, lo faccio, se vi piace lo seguite, se non vi piace andatevi da un'altra parte. Questo discorso ci può stare se appunto fosse stato fatto a quella persona che non mi conosceva, magari era entrato in live in un giorno dove io avevo avuto qualche mio scazzo personale, altri problemi che magari appunto mi alteravano l'umore. Quindi lui non poteva da un minuto giudicare e questo mi ha dato sui nervi. Dopo questo appunto episodio io ho dopo poco spento la live perché ero troppo alterato, sono due o tre settimane che sono troppo alterato, infatti stacco le live a metà eccetera, non continuo perché non mi piace nemmeno a me portare questo tipo di contenuto. Comunque dopo questo episodio Fefe che è il mio amico con cui gioco, mio compagno di squadra, mi ha preso di sparte tra virgolette dopo la live e mi ha detto Gianvara che secondo me stai esagerando. Io apprezzo moltissimo perché noi del team ci diamo una mano e mi danno soprattutto a me una mano e mi danno il loro punto di vista da spettatori perché ho la fortuna di giocare con delle persone che apprezzano anche i miei contenuti che mi seguono e quindi mi danno dei consigli su che strada prendere, su che comportamento secondo loro è da migliorare. Quindi mi ha detto Gianvara che stai esagerando e sinceramente ragazzi sentirmelo dire da un mio amico, un mio compagno di squadra mi ha fatto molto più riflettere rispetto al ragazzo che mi ha appunto seguito da un minuto e quindi non poteva sapere il mio stato d'animo eccetera. Però sapendo appunto il punto di vista da voi, anche voi ragazzi se mi dite che secondo me stai troppo alterato, gente che magari mi segue da anni, da mesi, adesso non so, fa molto più riflettere quindi il mio punto di vista su quel ragazzo rimane tale, ovvero che non doveva permettersi di dirmi queste cose. Però ragazzi sapere che comunque c'è qualcuno che magari apprezza i miei contenuti, che mi segue da mesi, in questo periodo mi vede alterato nelle live, ecco mi fa star male. Quindi ragazzi vi prometto, vi chiedo scusa se negli ultimi giorni veramente non c'ero con la testa, vi chiedo veramente scusa e mi dispiace davvero tanto. Questo che faccio ragazzi è una mia passione e comunque sapere che la sto portando avanti nel modo sbagliato, a volte in determinati periodi, mi fa star male. E quindi voglio migliorare, voglio migliorare, lo voglio fare per voi, per me e per vivermela meglio, per cercare di prendere ancora più pubblico e di far divertire le persone, non fargli vedere un Jan arrabbiato in live. Quello appunto non è divertimento, ci può stare lo scazzo ma non può essere tre settimane così. Quindi questo è un primo punto, spero di averlo spiegato abbastanza bene. Un'altra cosa, il fatto che non sto più portando tanti contenuti, non sto più giocando molto, quindi ovviamente tutto è collegato. Non giocando tanto le prestazioni calano e quindi io mi arrabbio più facilmente, perché però non sto più giocando molto. Diciamo due mesi fa mi è venuto un po' di fitte, mi venivano delle fitte in questo punto della testa. Questo non l'ho raccontato a tanti, quindi è un po' difficile per me, è un po' difficile. Avevo queste fitte qua, in questo punto della testa, qua dietro sulla parte sinistra. Guardando su internet ovviamente mi hanno detto che sarei morto nel giro di una settimana. No, vabbè, sappiamo tutti come Google che ti dice che puoi avere tutte le cose di questo mondo. Però c'era un'opzione molto plausibile, ovvero tanto tempo davanti a monitor, a display, eccetera. E ho detto, vabbè, ma cazzo io ci ho passato una vita minchia davanti ai monitor. Perché adesso ha iniziato a farmi male questo punto ad avere delle fitte continue? Ma mi venivano proprio ogni due minuti una fitta e quindi ero anche abbastanza preoccupato. Arriva poi il periodo dove ho fatto delle ferie. Mi sono preso tre settimane di stacco da lavoro, appunto, e anche un pochino dai social, dappertutto. Dove ho iniziato ad uscire di più la sera, insomma, ero in ferie. Quindi ad agosto si andava al mare, si stava meno tempo davanti ai dispositivi. Effettivamente, raga, mi è passato molto questo dolore che avevo e tuttora non ce l'ho più molto presente. Quindi non vorrei rischiare di star troppo ancora davanti a monitor. Perché veramente prima mi uccidevo davanti ai monitor. Finivo la giornata lavorativa e stavo tutto il tempo davanti a un monitor per fare contenuti, per fare live. E veramente dormivo tre, quattro ore a notte. Era una cosa, anche quella forse, che ha influito tutto quanto su questo problema. Che ho forse ancora, perché ogni tanto comunque però è molto meno frequente. Quindi secondo me il mio problema lo attribuisco al 90% ai monitor, a star troppo tempo davanti a un computer. E questo non è bello, perché, ragazzi, mi piacerebbe a me giocare di più. Però se ci devo perdere salute, se devo avere preoccupazioni anche di questo genere, preferisco staccare un pochino. Non pensavo sinceramente di fare questo video e di dirvi queste cose, perché non voglio farla vittima. A me, raga, sono una persona forte e lo so, ho un carattere forte, veramente. Le emozioni riesco a controllarle molto bene e non ho mai, non mi apro con nessuno, nel senso, non sono quella persona che va a parlare dei propri problemi. Quindi fare questo video per me non è stato facile, non è facile. Ho fatto questo video e per la prima volta parlerò un pochino di quello che sono anch'io, insomma, ecco. Spero che comunque vi abbia fatto piacere questa chiacchierata. Io adesso, nelle prossime settimane, tornerò ovviamente con i miei contenuti. E spero appunto che abbiate apprezzato un pochino questo mio discorso, questa mia apertura nei vostri confronti. Ah, proprio ci riesco a rovinare il finale, eh, con queste minchiate, che dico. Ragazzuoli, davvero, vi voglio bene, perdonatemi, vi chiedo scusa, veramente. Vi chiedo davvero scusa per i miei comportamenti se non sono stato di compagnia in live, perché io voglio essere la vostra compagnia. Voglio che voi, quando tornate da scuola, da lavoro, quello che è, vi mettiate là sulla piattaforma, che sia YouTube o le altre dove streammo. Voglio che sia un rilassamento. Non voglio che voi arriviate e mi vediate bestemmiare e incazzarmi sul serio. Si deve ridere, si deve si incazzare, ma ridendo, non nei miei modi facendo delle cose al limite del ridicolo. Ragazzuoli, grazie mille davvero del supporto. Torneremo presto con i video. Bella raga.